buongiorno ragazze oggi finalmente faremo il nuovo cristallone gigantesco per la prima volta non so se vi ricordate negli scorsi video quanto è stato difficile tirare fuori il cristallo vero e spero che non sarà così con la resina e volevo cioè era da tempo che avevo in mente di fare una tipologia di avevo già in mente di come fare i colori di questo cristallo insomma e in effetti non vedevo l'ora anche proprio di realizzare sia la forma che che questi colori qua perché ancora non li ho usati che sono questi pigmenti stupendi che vedete in scala di colore rainbow e ve li faccio vedere al volo così capite di cosa si tratta e sono trasparenti sono molto trasparenti e avevo intenzione di metterli sulla superficie del cristallo su tutto lo stampo quindi questa sarà la prima fase ovviamente non ho fatto video in live perché è più divertente comunque vedere il processo piano piano come si svolge e poi finalmente vedere quando sarà finito tirarlo fuori e poi anche per una cosa molto semplice che con questo video fatto manualmente posso zoomare quindi tenetelo bene a mente allora iniziamo mi sono fatta un po di resina che non so se se basterà per questo stampo però nel caso non bastasse farò un bicolor e userò un colorante per resina uv facciamo un viola poi che non basta poi aggiungerò un po di scaglia di pigmento che hanno questo colore qua non so se si vedono un po di scaglia di pigmento che non so se si vedono un po di scaglia di pigmento che non so se si vedono attenzione ma non è detto neanche quindi queste scaglie sono molto leggere perché è solo pigmento però tenderanno un pochettino a scendere in quanto ne so io scendono ma non moltissimo e dipende pure dalla temperatura insomma la resina è liquidissima quindi tenderanno un pochettino a scendere coliamo e via e via Ok, questa è fatta, però volevo aggiungere alcune cose, volevo aggiungere alcuni pezzi di film iridescente, perciò un momento solo che lo acchiappo e poi farò vedere come lo taglio e come lo inserisco. Come potete vedere, mi sono fatta una cartellina, per quanti ce ne ho, perché non è che io ci lavoro, no, assolutamente sono un po' insgamabile, e questa per esempio è una prova che avevo fatto di tessuto iridescente, diciamo, come potete vedere non è andato a buon fine, però me lo tengo perché è bello da vedere. Ovviamente non è bello il ricordo, quindi dici no, mi è venuta una schifezza. Allora, ho alcuni che ho fatto con la pizzola heat gun, che sono diventati di questo motivo qua, se lo volete fare è molto facile, basta soltanto mettere su una superficie a prova di calore la heat gun e accenderla e farà questo effetto bolle, diciamo, se vi garba di più. Poi non so, io scelgo dei colori differenti da inserire sempre, solo ultimamente ne ho fatti alcuni con questo motivo qua, ma di solito li taglio direttamente così com'è. Allora, siccome oggi mi gustano questi qua, allora, generalmente io li taglio con queste forbicine piccole, perché quello che faccio sono tutti i ciondoli e cose piccole, però mi sa che questa volta mi conviene usare una forbice grande, perché comunque i pezzi che farò saranno molto più spaziosi, quindi taglierò delle forme random. Non so se vi sembra carino questo colore, a me sembra molto carino. Ok, penso che siano abbastanza. Diciamo che mi viene da ridere perché questa praticamente sarebbe la versione gigante di quello che faccio di solito con la resina, quindi è fichissima questa cosa. Allora, vi faccio vedere come vengono di solito i miei cristalli in versione piccola. Allora, questo è solo un esempio, gli altri purtroppo o per mia fortuna comunque non sono più disponibili, però l'effetto che viene è questo qui, è molto carino, mi è sempre piaciuto, quindi è facile da ottenere e di grande effetto, quindi procediamo. Di solito io uso la pinza, tipo le pinzette. Io faccio entrare il film piano piano in modo tale che l'entrata brusca nella resina non formi delle bollicine sulla sua superficie. Poi il modo in cui lo mettete è veramente indifferente perché dal momento che non avete mischiato dei colori di resina non fa niente come vi andate a muovere all'interno. L'importante è di fare questa cosa con pazienza e cercare di distribuirlo in maniera più ottimale possibile. Poi il fatto è che con la forma così grande ci penserà il movimento che farà all'interno a posizionarlo perché la forma particolare dello pezzo di film che avete messo, poi si andrà a appoggiare chi in un modo e chi in un altro. Quindi avrete dei bei giochi di luce. Vi sembreranno tanti forse questi pezzettini ma vi assicuro che all'interno della resina poi saranno non dico pochi diciamo forse il giusto. Io mi regolo occhio non so darvi la certezza che siano troppi o pochi poi all'interno visivamente perché non so come si andranno a posizionare. Ma questo è bellissimo. Cioè mi piace troppo. Guardate. È stupendo. Per adesso abbiamo finito. Ovviamente per voi il video continuerà tra 3, 2, 1. Ragazze, posso già togliere questo cristallo? Oddio, non ne sono molto contenta. Vi spiego perché. Allora, non ho molta esperienza con queste resine nuove. Io, ripeto, ho sempre usato la resina E30 di Prochima. E sapevo come funzionava perché fra l'altro, vabbè, ripeto, con l'esperienza uno si regola con l'uso di questa resina. Scusate che ci metto tanto, però mi vengono in mente le cose da dire, cioè tipo di vago, eccetera, eccetera. Ma sapevo che la Prochima aveva due tipi di resine trasparenti. Adesso ce ne ha tantissime, ma prima ne aveva poche. E una di queste due era la E30, come dicevamo, che serviva al modellismo ed era in odore. E aveva 24 ore di catalizzazione e che poteva essere usata soltanto per cose che aveva uno strato inferiore, uno spessore inferiore a 5 cm. Cioè da 5 cm in su devi usare un'altra resina. che al momento non ricordo come si chiama, però c'era quest'altra resina della Prochima che aveva un odore forte. Infatti quella lì servivano degli spazi più grandi per le salazioni, eccetera, eccetera. In più il catalizzatore che era minuscolo, se non ricordo male. E quella lì serviva per esempio a, che ne so, a fare delle cornici grandi per specchi, cose meravigliose. meravigliose che però, diciamo, se uno non ha l'esperienza o la possibilità di farlo, ovviamente desisti e fai le cosette tue piccole da obbistica, bigiotteria, eccetera, eccetera. E' un modellismo. Che succede? Che l'E30 si restringe moltissimo. Ora, questa qui non ha ristretto moltissimo, veramente, che questa è la liquidissima Resin Pro. E però mi ha creato dei problemi. Si vede che forse questo oggetto era troppo grande per essere fatto con quella resina là, anche se in realtà non mi sembra, forse è grande per quella resina. Però già vedo che i pigmenti mi sono caduti tutti sul fondo, di solito non mi succede. e ha fatto un boato di bolle che io non ho visto, nonostante che lo stampo è trasparente. Non so se vedete tutti questi puntini bianchi. Sono tutte bolle. Porca quando ve l'ho vista, no? Ma cosa ancora più strana è stato che dopo un'ora che l'avevo colata, era già dura. Allora, era già dura perché più grande è l'oggetto e più la reazione a catena della catalizzazione è veloce. Sembra strano, ma è così. E in più scottava proprio a morte. Infatti l'ho toccata e scottava tantissimo. E intorno era ancora un po' morbida. Quindi ho aspettato un altro paio di ore praticamente. Adesso sono qui che sto... Tipo... Che sto morendo e voglio vedere com'è andata. Secondo me è andata male. Questo cristallo, come tanti altri, apparterà a me. Vediamo un po' come va a finire. Sono molto curiosa. Mi sono preparata il mio solito piattino di acqua. Stavolta con classe, perché ovviamente me lo sono fatto da sola. Vediamo se avrò bisogno anche del sapone. Penso di sì, non lo so. Non l'ho preparato, perché ho fatto la gnorri. Questa volta, perché sono curiosa che voglio aprirlo. Secondo me sono venute un sacco di bollicione. Non lo so, vediamo. Vediamo se è vendibile o meno. Poi uno sta sempre a vedere come regolarsi con i vari prodotti che ha. Perché magari sono le prime volte che uno ci deve fare l'occhio, ci deve aggiustare il tiro, eccetera, eccetera. Ma è bellissimo! Allora, vediamo un pochino. Sì, mi piace, mister cristallone. Sì, mi piace. Ecco, tipo, io incantata, che lo guardo cinque anni, prima dal vivo, poi dopo mi tipo alzo la testa per vedere sullo schermo del telefono, no? Vediamo. È bello di qua, è bello di là, è bello di così, è bello di colà. Ok, sapete, come al solito il mio cervello è abbastanza arrivato. Però vedete, c'è qualche bollicina qui. Vabbè, in questo caso qua, ve lo dico, si può anche riempire con dell'altra resina. Anche resina UV non c'è problema quando si tratta di queste bollicine piccole qua. Comunque, non mi sembra che il risultato sia proprio malaccissimo. A parte, vede, questi qui, che sono i pigmenti che sono caduti direttamente proprio come se nulla fosse sul fondo. Mi piace moltissimo questo lato qua, come è venuto. Vabbè, dai, missione compiuta. Però penso che ne farò un altro. Ok? Comunque, sto preparando altre cosine per il prossimo video. Siccome mi ha divertito fare degli esperimenti con voi, e di confrontarci insieme, vedere le cose, cose ho imparato io, se voi avete qualcosa da dire a me, allora ho detto, senti, mo faccio uno di quei video esperimento. E ho messo a fare delle cose oggi, quindi probabilmente, forse penso domani, e ci rivedremo. Ok? Grazie di avermi seguito e ci vediamo presto. Un bacione a tutte. Ciao!